Grazie a tutti per essere Grazie a tutti per essere venuti, io sono Gabriele della cooperativa 29.9 e questa per noi è una serata molto molto importante perché l'aspettavamo da tanto tempo, è un onore per noi ospitare il professor Galimberti all'interno della nostra rassegna Diamond in questa meravigliosa cornice. Io un po' di tempo fa ho chiamato Luca e ho detto, senti Luca noi qui abbiamo un sogno, se fosse possibile avere un incontro con il professor Galimberti. E Luca ci ha fatto il regalo di renderlo possibile, quindi grazie. Grazie a tutti voi per essere venuti, siete in tanti, grazie per la pazienza, però è bello vedere riempita una piazza in una serata in cui si parla di filosofia. E sono contentissimo. La cooperativa 29.9 è una cooperativa di attori. Abbiamo passato due anni veramente tremendi, critici, complicati. Per cui rivederci qui è segno di la voglia di andare avanti e quest'anno abbiamo scelto anche le piazze proprio per questo, per riappropriarci degli spazi di socialità, perché abbiamo bisogno di incontrarci. Io ringrazio l'amministrazione comunale che è partner, collaboratrice e sostenitrice della rassegna Diamond per le serate che abbiamo fatto qui a Cutrofiano e per il Festival Crita che si è concluso un po' di settimane fa. Niente, io se l'assessore della cultura vuole fare un saluto io lascerei un attimo e poi farei cominciare al professore o al sindaco. Grazie, grazie a voi, grazie di essere così numerosi, di aver risposto. in questo modo alle nostre manifestazioni. Sono onorata, professore, di poterla ospitare in questa bellissima piazza e di poter ospitare uno dei maggiori intellettuali, filosofi del nostro tempo, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Veramente grazie di essere qui, di essere presente, di illuminarci con quello che dirà sicuramente in questa lezione e di scuoterci un po', perché forse ci siamo un po' addormentati. Quindi da questa serata, dalle parole che il professore sicuramente pronuncerà da qui a poco, saremo scossi, perché la filosofia non può fare altro che scuotere il pensiero, che scuotere le menti e ci darà possibilità di riflettere, di riflettere sui nostri comportamenti, di riflettere sul nostro modo di comportarci, di stare al mondo, di essere al mondo e su un'altra possibilità di un mondo differente. Io concludo qui, non voglio approfittare della sua pazienza, perché è veramente stato di una disponibilità eccellente e grazie ancora. E grazie a tutti voi. Buonasera, grazie, ringrazio per il gradito invito la cooperativa 29.9, ringrazio l'amico Gabriele Polimeno e per il suo tramite tutti i suoi collaboratori e colleghi che hanno consentito la realizzazione di questa bellissima serata. Ringrazio per l'invito, per l'ospitalità, l'amministrazione, l'assessora con cui abbiamo fatto un'interessante passeggiata all'interno di questo straordinario museo. Consentitemi di ringraziare la persona in particolare che va ringraziata, lo dico fuori di retorica, il professore Umberto Galimberti, che ha accettato l'invito da parte della città di Cutrofiano, nonostante una agenda, vi assicuro, assolutamente molto, molto complessa. Grazie. Questa sera parleremo di felicità. Il professor Galimberti vi parlerà di felicità, del mito della felicità. È un tema molto complesso che è tornato alla ribalta negli ultimi mesi, in particolare quando ognuno di noi lo scorso anno, per la prima volta nella storia repubblicana, è stato confinato nelle proprie mura domestiche. molti di noi si sono chiesti se quell'episodio indispensabile per ridimensionare un problema molto grave era un provvedimento giusto e se in quel momento eravamo felici oppure no. Allora io non mi addentro all'interno di questa dinamica che comporta riflessioni molto complesse, mi limiterò soltanto a fare una riflessione sul tema della felicità. partendo dai greci antichi. I greci antichi avevano le idee molto chiare sul concetto di felicità. Per i greci antichi la felicità non è l'euforia, non è un momento di spensieratezza come troppo spesso noi assimiliamo o siamo portati a fare. I greci antichi indicavano il termine di felicità con la parola eudaimonia, letteralmente buon demone. Avere un buon demone sicuramente diremmo noi oggi è anche una questione di fortuna, ma per i greci era soprattutto la capacità di rimanere il più fedele possibile alla propria vocazione. Nell'Apologia, in una delle pagine più complesse della storia occidentale, il primo a parlare di Daimon fu Socrate. Socrate venne accusato dai suoi concittadini di fuorviare i giovani dell'epoca. Piccola parentesi, Socrate si limitava a porre, tra virgolette, semplicemente delle domande ai giovani dell'epoca. Che cos'è la poesia? Che cos'è la musica? Che cos'è la natura? Questo gli è valso un'accusa. Socrate poteva ritrattare il suo atteggiamento, poteva scusarsi con i suoi accusatori, al limite farsi difendere da un buon avvocato. Socrate non fa nulla di tutto questo. e dinanzi ai suoi accusatori si difende dicendo voi mi accusate, io non faccio nulla di male, seguo, sento, ascolto il mio Daimon. Voi tutti sapete questa storia come è andata a finire. Socrate, neanche dinanzi al pericolo della morte, rinnega il suo Daimon. Gente seria. Chiosa finale. Ricordiamo tutti il motto che è scalpellato sul Tempio di Apollo. Adelphi, non a caso, conosci te stesso. E se noi proviamo a metterci da questa prospettiva dei greci antichi, i greci antichi ti sanno insegnare che nella vita l'obiettivo, la meta, il risultato è senza dubbio importante. Ma è molto più importante la meraviglia del viaggio. Quello che sono assolutamente certo faremo questa sera tutti insieme con il professore Umberto Gallimberti. Grazie. Buonasera. Si sente? Voi sentite? Io sono un po' sordo e sento la metà quando uno parla. Dunque, la felicità, di solito se ne parla quando si è molto infelici. Perché quando uno soffre, il dolore lo racconto subito, la prima cosa che fa è andare a dirlo a un altro. Poi perde le amicizie perché gli altri lo evitano. Ma quando uno è felice, si prende la felicità e basta se la gode e fa questa esperienza con il timore che duri poco e che comunque un certo giorno dovrà pagare lo stato di euforia e di felicità. Bene, questo concetto non va lasciato nella sua solitudine perché dipende rigorosamente dalla cultura in cui si esprime. la cultura greca abbiamo sentito che ha il concetto di felicità ben descritto da Luca Donlasco. Ma come nasce questo concetto di felicità? È il suo contrario che è il dolore. Anche il dolore dipende dalla cultura. Per i greci il dolore deve essere tollerato perché fa parte della vita. Per i cristiani è una capparra per l'eternità. Per noi moderni è un affare della tecnica medica. Capite che cambia il significato di dolore, no? A seconda della cultura in cui si inserisce. Bene, i greci partono da un concetto fondamentale che li contraddistingue da tutti gli altri popoli che consiste nel fatto di dire che l'uomo è mortale. I greci avevano due parole per dire uomo. Avevano la parola anere e avevano la parola antropos che non usano quasi mai. E usano la parola znetos da zanatos che è la morte. Mortale. Mortale significa che non avevano speranze ultraterrene come l'aviamo noi cristiani. Dicevo ieri sera a Squinsano che il cristianesimo non è solo una religione è una cultura collettiva. Sono cristiani anche gli atei sono cristiani anche gli agnostici. Si pensa nella figura della speranza la speranza è uno sguardo sul futuro che è una categoria messa in circolazione dal cristianesimo. Quindi non facciamo distinzione tra ateismo e credenti e non credenti che sono guerre di posizione. Dire che l'uomo è mortale significa instaurare una cultura un'etica che è l'etica del limite. I greci conoscevano il loro limite. I greci non avrebbero mai scolpito i bronzi di riace perché sono oltre il limite. I greci scolpivano il discopolo l'origa che hanno misura umana e per loro la misura era la configurazione sia dell'architettura sia della matematica sia della filosofia sia della felicità. Katametron non oltrepassare la tua misura. Non avevano comandamenti e non avevano quindi neanche divieti. l'unico divieto era in realtà una minaccia che era l'Ubris. L'Ubris consisteva nella colpa di oltrepassare la propria misura di andare al di là. Questa è l'unica colpa che esseri conoscevano e che segnalavano come una cosa tremenda perché ne erano colpiti coloro i quali ai quali gli dèi avevano deciso di far perdere la loro mente. La morte dava loro il senso della misura. Quando Prometeo ha regalato la tecnica agli uomini li ha resi da indifesi e muti impadroni delle loro menti il coro chiede non è che ha promesso loro qualcosa che non sei in grado di mantenere il riferimento è una vita oltre la morte e Prometeo confesse sì ho dato loro cieche speranze allora bene ha fatto Zeus a incatenarti alla rocca e a mandarti un'aquila che tirò del fegato per l'etanità del giudizio. I greci opportunamente avevano incatenato il dio della tecnica noi l'abbiamo scatenato ma ad un livello tale lo scatenamento della tecnica oggi che la nostra capacità di fare è enormemente superiore alla nostra capacità di prevedere gli effetti del nostro fare questo è il risultato dello scatenamento tecnologico noi non prevediamo gli effetti del nostro fare tecnico un esempio che ne sappiamo delle monoculture lo sapremo tra tre o quattro generazioni per vedere se quella terra produce o non produce ancora per dire farà i pomodori più belli un po' più insipidi però non sappiamo ancora l'esito che ne sappiamo di tante scoperte tecnologiche già in azione perché la tecnica non ha scopi la tecnica tende solo al suo autopotenziamento perché tutti la vogliono tutti la desiderano e quindi non ha limiti i greci avevano il senso del limite perché concepivano la vita a partire dalla natura non a partire dai sogni umani e la natura prevede al pari di tutti i viventi che tu uomo che non sei al vertice del creato come nella cultura cristiana e non puoi trattare la natura al di là dell'uso della natura fino alla sua usura oggi noi non abbiamo più la natura come terra di abitazione abbiamo la natura la concepiamo solo come materia prima fin quando sarà possibile far questo e già se ne vedono gli effetti abbiamo perso il senso del limite e l'uomo al pari di tutti i viventi nasce cresce genera e muore perché alla natura gli individui interessano unicamente in ordine alla generazione perché solo la generazione continua garantisce la continuità della specie e gli individui che non sono più in grado di generare devono morire in un certo senso la natura è caratterizzata da una sorta di crudeltà innocente per il suo ricambio per la sua continuità gli individui sono semplici strumenti della sua vita questo pensavano i greci i greci poi avevano anche un altro concetto di dolore che è il contrario della felicità un concetto molto serio molto interessante dicevano la vita ti offre la felicità e insieme il dolore quando ti offre la felicità espandi la tua vita quando ti offre il dolore sostine e abstine reggilo e evita di metterlo in scena anche qui ritorna il motivo del limite il dolore lo si deve reggere ed evitare di metterlo in scena la nostra cultura del dolore invece mette in scena il dolore giustamente perché nella prospettiva giudaico-cristiana il dolore svolge il ruolo da un lato di riscattarci dalla colpa originaria oppure dalle nostre colpe e dall'altro di costituire una caparra per l'eternità la sofferenza è una caparra per l'eternità e quindi il dolore va messo in scena se noi confrontiamo la morte di Socrate di cui il dottor Nolasco ha appena parlato e la morte di Gesù capiamo immediatamente la differenza tra queste due culture Socrate in prigione condannato a morte perché corrompeva i giovani quando uno insegna la gente a pensare automaticamente viene vissuto dal potere come un corruttore il potere non vuole cultura il potere vuole masse il più possibile ignoranti perché così sono più obbedienti bene Socrate Socrate è in una prigione del Pireo a certo punto giunge un suo allievo un suo disceppolo che è fedono e dice guarda io ho parlato con i 30 tiranni anche loro sarebbero favorevoli che tu scappassi da questa prigione così evitiamo di giustiziarti visto che sei famoso in Atena e creare eventualmente delle sollevazioni o cose di questo genere Socrate lo guarda dice il testo greco con i suoi occhi da brace e dice io vi ho insegnato sempre a osservare le leggi perché il giorno che trasgredite le leggi la comunità si dissolve e questa condanna appartiene alla legge di Atene quindi la si osserva inoltre io quello che avevo da insegnarvi ve l'ho insegnato si chiude il mio ciclo datemi la cicuta e non se ne parla più lui stesso prende la cicuta la beve gli si intorpidiscono le gambe si sdraia sul giaciglio e muore questo è Socrate substine e abstine non mettono in scena il talore ricilo se invece confrontiamo l'episodio con Gesù intendiamoci bene cerchiamo di capire bene io sto facendo vedere il contrasto tra cultura greca e cultura cristiana non sto dicendo che il cristianesimo è una porcheria e mi raccomando non trattatemi come uno dei soliti volgari nati o gnostici il cristianesimo è un'altra cultura che ha fondato l'occidente dicevamo ieri a Spunzano che l'occidente e il cristianesimo sono la stessa cosa e moriranno insieme quando sarà il loro tempo non sopravvivirà l'occidente senza il cristianesimo non sopravvivirà il cristianesimo senza l'occidente e capiremo perché tra un po' bene per il cristianesimo invece siccome il dolore ha un valore allora bisogna metterlo in scena bisogna insegnarlo bisogna dire alla gente che la sofferenza consente di acquistare meriti bisogna fare queste cose e Gesù cosa fa? l'ultima cena dice uno di voi mi tradirà poi va nell'orto degli azemani va a vedere i suoi discepoli quali dormono tranquillamente dormite gli amo al requiescito e nella sua solitudine si rivolge al padre e dice non dice se puoi allontana da me questo calice ma dice se vuoi perché Gesù non mette in questione l'onnipotenza del padre ma la volontà del padre dopodiché corona di spine fragellazione salita sul Golgotha tre cadute crocefissione la spada nel petto e l'urlo di Gesù Abba perché mi hai abbandonato grandioso da quel momento in poi la croce è diventata il simbolo dei cristiani che è l'emblema del dolore se ricordate Giovanni Paolo II da buon vicario di Cristo ha messo in scena il dolore ve lo ricordate quando in una condizione finale di Parkinson appariva alla finestra senza riuscire più a spiegare una parola e l'ultima volta che è apparso ha picchiato persino un pugno sul mensale che aveva davanti dalla rabbia di non potersi esprimere il dolore ha tutta un'altra configurazione nella cultura cristiana nella cultura greca invece andava sopportato bene e la morte era quella dimensione che costruiva l'etica del limite non devi oltrepassare il tuo limite la morte naturalmente non era la cosa più gradita non è la cosa più gradita dai mortali perché è vero che la natura ci fa morire perché non serviamo più alla sua prosecuzione ma gli individui tentano di reagire a questa morte i greci non reagiscono e hanno una visione della vita tragica dunque la parola tragedia non la dovete pensare nella forma dell'infelicità radicale oppure di una drammaticità dolorosa la parola tragedia viene da dai canti dei pastori pastori in greco si chiama tragos e i canti dei pastori tragicoi la tragedia nasce dai canti dei pastori i quali canti dei pastori nascono da un senso di desolazione e qui consentitemi di leggere cinque righe di Nietzsche che le descrive molto bene dove Nietzsche scrive osserva il grege che ti pascola innanzi esso non sa cosa sia ieri cosa oggi salta intorno mangia riposa digerisce torna a saltare e così dall'alba al tramonto e di giorno in giorno legato brevemente con il piacere e il dolore ciò fa male all'uomo perché al confronto dell'animale egli si vanta della sua umanità e tuttavia guarda con invidia la felicità dell'animale già che questo soltanto egli vuole vivere come l'animale vivere come l'animale ma sa di non poter vivere come l'animale e perché l'uomo non può vivere come l'animale l'uomo non può vivere come l'animale perché l'animale per vivere gli basta l'istinto l'uomo invece che non ha istinti ma non sto a discutere perché questa sera ha bisogno di un senso per vivere ha bisogno di un senso quindi vorrebbe la vita dell'animale senza ieri senza domani quel pascere quel addormentarsi quel risvegliarsi quel nutrirsi e basta ma non la vuole così la felicità in quel come sta la disfatta dell'uomo è il come costituito dal fatto che l'uomo per vivere ha bisogno di costruire un senso però in vista della morte che è l'implosione di ogni senso e qui incipi tragoedia qui incomincia la tragedia un giorno la re Mida incontra il satiro sileno il saggio sileno i satiri erano considerati molto saggi non erano altro che la raffigurazione del pastore con la sua pecora avevano le zampe delle pecore e il busto da uomo era la vita dei tragicoi Eremida chiede al saggio Silone dimmi cosa posso fare per essere felice Sileno lo guarda dice perché mi costringe a dire cose che per te non è il caso che tu sappia in fondo tu appartieni a una stirpe miserabile ed effimera le parole greche non sono tammesse lì per caso effimera vuol dire che nasci per caso la prima cosa che fai è piangere vita miserabile ed effimera figlio del caso e della pena perché mi costringe a dirti cose che per te è meglio non sapere meglio per te sarebbe stato non essere nato è la cosa migliore che ti posso augurare e di morire presto per non assistere a quel disfacimento del senso che costituisce proprio la tragedia della condizione umana l'uomo è tragico perché mentre l'animale può vivere senza costruire un senso noi non riusciamo a vivere senza costruire un senso e sia ad attenderci al termine della nostra vita e la morte che è l'implosione di ogni senso e allora la nostra condizione è tragica l'animale non è tragico noi sì per quello che ci distraiamo dalla morte e in ciò siamo anche aiutati dalla natura perché Freud dice che nessuno di noi sente la propria morte sappiamo che dobbiamo morire lo sappiamo con la testa ma non lo sentiamo con la nostra psiche dice Freud e fa un esempio di un suo paziente che dice dottor Freud io e mia moglie abbiamo fatto un patto il primo di noi due che muore io vado a Parigi dove è implicito che morire per primo doveva essere la sua moglie naturalmente ma questo sta a dire che non siamo in grado di sentire la nostra morte e quando ci tocca di morire non abbiate troppe ansie tanto ci tocca perché nel momento in cui morite incomincia un processo di affabulazione un processo di non è una confusione mentale ma un'incapacità di percepire la fine anche se si sa con la testa che si è alla fine non lo sentiamo con la psiche qui la natura ci dà una mano ecco la dimensione tragica è proprio questa l'uomo per vivere ha bisogno di costruire un senso in vista della morte che è l'implosione di ogni senso e quindi c'è l'insignificanza dell'esistere per questo l'umanità è una stirpe miserabile ed effimera perché afflitta da questo dolore ciononostante non è esclusa la felicità la definizione che dà Aristotele che il dottor Nolasco ci ha appena ricordato è eudaimonia è la parola greca che sta per felicità eo in greco vuol dire buono bene daimon fa riferimento a quello che tu sei la tua natura la tua vocazione che cosa sei perché sei nato per fare lo scultore per fare l'attore per fare il matematico per fare il letterato qual è il tuo daimon eudaimonia significa buona realizzazione del tuo daimon buona realizzazione della tua virtù della tua capacità della tua vocazione questa è la felicità però però sempre il mondo greco dice stai attento che magari sei un buono scultore ma se vuoi essere pensi di essere più bravo di Fidia ecco qui cosa vuol dire oltrepassare il limite se pensi di essere più bravo di Fidia crei la tua rovina e allora realizza te stesso katametron secondo misura quindi e per questo devi prima di tutto conoscere te stesso perché se uno non conosce se stesso non sa neanche quale è il suo demone quando conosce il tuo demone vedi di realizzarlo e nella realizzazione non oltrepassare la misura katametron stai attento a non oltrepassare la misura non vantarti eh e qui di nuovo compare la dimensione del limite io penso che la cultura contemporanea dovrebbe recuperare la cultura greca nella accezione del limite dovremmo essere davvero più limitati dovremmo davvero non guardare solamente nelle forme del progresso che poi non è progresso ma è semplice sviluppo non dovremmo esagerare nelle nostre manifestazioni dovremmo mantenere la misura i greci ci possono insegnare questo ora li abbandoniamo perché la cultura greca muore nel 33 dopo Cristo è il tempo di Tiberio che coincide con la morte di Gesù e dice che i marinai che solcavano il Mediterraneo udirono un grande grido Pan è morto e con lui è morta la tragedia Pan era il dio dei tragici era il dio dei pastori era il dio della sessualità si chiama Pan che vuol dire tutto ed è stato accolto nel mondo nell'Olimpo da tutti gli dèi ecco perché si chiama Pan è il dio della sessualità perché è un dio è un dio che sta con la specie non con l'individuo e la specie ha bisogno della sessualità per la generazione e quindi anche l'iconografia greca che illustra Pan con un lungo fallo non lo si deve leggere in forma pornografica il fallo di Pan è la generatività della natura non è interessante l'individuo e l'uomo il grande Pan è morto e con lui è morta la tragedia vero? Nietzsche dice che la tragedia è morta perché il cristianesimo ha avuto un colpo di genio e il colpo di genio del cristianesimo è stato quello di dire agli uomini non morirete mai a questo punto la cultura greca finisce e con lei la tragedia attenzione finisce la tragedia perché dice opportunamente Nietzsche che la tragedia non è un genere letterario la tragedia è la cifra della grecità e fuori dalla grecità non c'è tragedia Carly Aspers che è stato il più grande psicopatologo del novecento è anche un grande filosofo in un libro sulla verità dedica una cinquantina di pagine al tragico e dice che neppure c'è spero è un tragico perché nella cultura cristiana non c'è tragedia c'è speranza e quindi si possono e quindi si possono narrare situazioni dolorose tristi terribili ma non con lo spirito della tragedia perché tu nella cultura cristiana hai la speranza come mai nasce questo concetto di speranza perché il cristianesimo formula una una cambia la natura del tempo il tempo greco era un tempo ciclico ciclico vuol dire inverno primavera estate autunno e poi il ciclo si ripete è il tempo dei contadini è il tempo dei pastori il cristianesimo invece inaugura un tempo assolutamente diverso che è un tempo escatologico come lo chiamano loro e infatti con la nascita di Gesù incomincia un calendario nuovo perché è cambiata la natura del tempo non è più un ciclo ma è una traiettoria dove alla fine escatone ho detto prima tempo escatologico escatone vuol dire in ordine allo spazio lontano in ordine al tempo ultimo nell'ultimo giorno si realizza quello che all'inizio era stato annunciato quindi il tempo acquista un senso si capisce questo concetto quando il tempo è iscritto in un disegno acquista un senso e quando il tempo acquista un senso diventa storia anche i ragazzi quando si innamorano dicono che hanno una storia cosa vuol dire che è un tempo qualitativamente diverso da quello di prima e quello di dopo perché è un tempo gravido di senso vedi i cristiani inaugurano questo senso questo tempo escatologico escatone ho detto prima vuol dire lontano in ordine allo spazio ultimo nell'ordine del tempo alla fine all'ultimo giorno si vedrà realizzato quello che all'inizio era stato annunciato cioè il regno dei cieli il tempo a questo punto acquista un senso e col senso diventa storia i greci non avevano nessuna storia quelli che noi chiamiamo i due storici Erodoto e Tucidide non erano per niente storici Erodoto era uno che girava e raccontava le cose che vedeva perché istor in greco non vuol dire tanto storico vuol dire istor racconto quello che ho visto quindi erano dei cronisti Erodoto girava il Mediterraneo e raccontava quello che aveva visto Tucidide l'altro grande storico della Grecia non era per niente storico e incomincia le sue storie dicendo le incomincio a partire da dieci anni prima della mia nascita perché prima non ho visto niente e quel che posso raccontare è quel che ho visto è quel che ho sentito basta non c'è una storia gravida di senso perché il tempo è ciclico non è proiettato verso un futuro proiettato verso un futuro il cristianesimo inaugurano un ottimismo grandioso anzi io penso che l'Occidente è diventata la prima civiltà del mondo non facciamo finta di essere modesti perché è così poi l'abbiamo esportata questa civiltà grazie al cristianesimo perché? perché il cristianesimo ha tratteggiato il tempo secondo questa modalità il passato è male peccato originale il presente è redenzione il futuro è salvezza il futuro sempre positivo la scienza che si è soliti contrapporre alla religione non ha nessun senso questa contrapposizione perché la scienza è profondamente cristiana a sua volta perché il passato è ignoranza il presente è ricerca il futuro è progresso il futuro è assolutamente positivo abbiamo la laicizzazione della triade cristiana anche Marx sotto questo profilo è un cristiano il passato è ingiustizia sociale il presente è far esplodere le contraddizioni del capitalismo il futuro giustizia sulla terra ecco cosa ha inaugurato l'Occidente il futuro sempre positivo anche Freud che scrive un libro contro la religione intitolato l'avvenire di un'illusione dice che i traumi le nevrosi nascono nel passato il presente è terapia il futuro guarigione sempre positivo da qui nascono quelle parole che io chiamo parole della passività che sono la speranza quando io sento dire speriamo auguriamoci auspichiamo le chiamo parole della passività nella forma io sto fermo e vediamo che tanto il futuro è positivo porterà rimedio al presente non è vero non è vero il futuro è sempre positivo è stata la molla che ha consentito all'Occidente di proiettarsi in un futuro senza limiti senza limiti addirittura si potrebbe dire che la stessa tecnica è di derivazione cristiana perché il greco non avrebbe mai pensato di poter dominare la natura perché la natura era quello sfondo immutabile che nessun uomo nessun dio fece era la misura di tutte le cose invece nella tradizione giudaico cristiana la natura è creata da Dio ed è consegnata ad Adamo per il suo dominio nel Genesi leggete dominerai sui volatili del cielo sui pesci delle acque marine sugli animali della terra dominerai e ancora nel 1600 quando Bacone inventa la scienza moderna i prodromi della scienza moderna dice esplicitamente che attraverso la scienza e la tecnica noi riduciamo le pene del peccato originale e le pene del peccato originale sono se ricordate la fatica del lavoro guadagnerai il pane col sudore della fronte e il dolore perdurirai col dolore dice nel 1600 Bacone con la scienza e la tecnica ridurremo le pene del peccato originale vedete questa derivazione rigorosa della scienza e della religione guardate che le cose non nascono come i fiori nascono da tradizioni nascono da culture da culture che sono diventate sono interiorizzate e funzionano da modelli bene se no che un giorno Nietzsche ci dice che che Dio è morto e che non è una cosa qualsiasi e non lo dice con compiacimento e non lo fa a dire all'ateo che non è interessante perché l'ateo e il credente discutono sull'esistenza o la non esistenza di Dio Nietzsche oltrepassa questi modelli perché uno che è morto vuol dire che un tempo era vivo se noi prendiamo il medioevo se noi prendiamo il medioevo dove si parla di la letteratura parla di inferno purgatorio e paradiso dove l'arte è arte sacra dove persino la donna è donna angelo se io tolgo Dio non capisco niente del medioevo quindi Dio c'è Dio fa mondo e il mondo accade come Dio vuole è vivo Dio se io tolgo Dio dal mondo contemporaneo lo capisco ancora? risposta sì lo capisco ancora non lo capirei più se togliessi la parola denaro che è diventato il generatore simbolico di tutti i valori o la parola tecnica ma se tolgo la parola Dio lo capisco ancora Dio non fa più mondo il mondo non accade più come Dio vuole Dio è morto la morte di Dio la fa annunciare dal follo il follo entra in un mercato dove ci sono i credenti e i non credenti in Dio e annuncia loro Dio è morto noi l'abbiamo ucciso noi abbiamo fatto il più grande dei delitti dove andiamo adesso ora? non abbiamo più un alto e un basso una destra e una sinistra andiamo precipitando verso un infinito nulla che cosa sono diventate ormai le chiese se non le tombe e i sepolcri di Dio questo è l'annuncio che fa Nice nella Gaia Scienza ed è un annuncio su cui verrebbe la pena riflettere per capire come muore una storia e con la morte di Dio crolla la fiducia nel futuro perché Dio era la garanzia che alla fine Escaton si sarebbe realizzato le promesse che erano state annunciate all'inizio finisce la storia noi oggi non viviamo nella storia non viviamo neanche nel tempo viviamo nell'accelerazione del tempo non abbiamo più storia perché non abbiamo più religione la storia appartiene solo alle religioni perché sono solo le religioni capaci di conferire senso alla storia come si abbandonano le religioni abbiamo la successione del tempo ma non abbiamo più storia Dio è morto e a questo seguito Nice dice l'epoca che si aprirà sarà caratterizzata da un ospite inquietante che si chiama Anichilismo caratteristiche del nichilismo dice Nice la definisce con tre battute manca lo scopo il futuro lo scopo riguarda il futuro manca lo scopo il futuro non è più una promessa manca la risposta al perché perché mi devo impegnare perché mi devo dare da fare e al limite perché devo stare al mondo tutti i valori si svalutano questa terza considerazione secondo me non è interessante perché i valori non sono dell'entità metafisica che piovono sulla società i valori sono dei coefficienti sociali che una società adotta perché le ritiene i più idoni a ridurre la conflittualità niente di più e niente di meno sono costruzioni umane i valori non sono valori eterni o cose di questo genere prima della rivoluzione francese la società era organizzata secondo valori gerarchici dopo la rivoluzione francese si è organizzata secondo valori di cittadinanza o di uguaglianza almeno formale sono cambiati tutti i valori non è mica finita la storia ma le prime due battute sono due legnate spaventose che i giovani percepiscono oggi sulla loro pelle quando io mi sono laureato il futuro era lì ad aspettarmi quando si laureano loro il futuro non è lì ad aspettarli il futuro è finito manca lo scopo manca la risposta al perché perché mi devo impegnare perché mi devo dare da fare perché devo stare al mondo guardate che sono tanti gli studenti che si suicidano durante l'anno e qui sono arrivato anche alla persuasione che oggi i giovani bevono si drogano non credo tanto per il piacere che danno queste cose può darsi non ho mai provato a drogarmi bere sì ho provato ma attenzione bene davvero è per piacere che fanno queste cose oppure assumono queste cose per anestetizzarsi dall'angoscia che produce in loro lo sguardo sul futuro perché vivono l'assoluto presente perché il futuro mette angoscia perché quando il futuro non è prevedibile è angosciante e allora ci stordiamo viviamo il presente 24 ore su 24 perché in questa maniera riusciamo in qualche modo a sopravvivere sto esagerando sto parlando di una gioventù metropolitana che forse a voi non riguarda ma quello che manca lo scopo e manca la risposta al perché mi pare due cose da tenere presenti molto bene ed è inutile far finta che non siamo in un'età nichilista Heidegger commentando questo passo di Nice dice è inutile mettere alla porta l'ospite inquietante che è il nichilismo perché già da tempo si aggira per la casa bisogna guardarlo bene in faccia perché se uno si muove pensando che non ci sia non siamo in epoca nichilista si muove con la prospettiva e lo sguardo sbagliato bisogna guardarlo questo nichilismo e partire da lì per forare il medio andiamo avanti con la nostra felicità passiamo al rinascimento il rinascimento è interessante perché si mette a inventare delle società utopiche dove tutto va bene con una gioia e con una sorta di profezia di tutto quello che la tecnica può portare anche se allora non erano in grado di realizzare questi sogni abbiamo Campanella che scrive la città del sole Vacone che scrive la nuova Atlantide Tommaso Moro che scrive Utopia 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 ha due letture Topos in greco vuol dire luogo la si può leggere come O Utopia o come E Utopia se la legge come O Utopia la O Utopia è il luogo che non c'è e perciò è felice se la legge come è Utopia i luoghi felici sono quelli che non esistono quindi nel recuperare il rinascimento nel recuperare la cultura greca non abbandona la vena tragica sviluppa impianti utopici li descrive li sogna ma non ci crede e non crederci ribadisce la dimensione tragica del greco che vive sotto traccia nella nostra cultura bene Freud ha un'altra lettura della felicità gliel'ha consegnato un suo amico poeta Roland Roman il quale gli aveva detto che la felicità è la condizione fusionale in chiave religiosa potremmo pensare alla mistica la mistica è uno stato fusionale con Dio Freud che non crede in Dio dice che lo stato fusionale perfetto è il momento massimo di felicità e quando si è nel grebo materno dove la vita per vivere non hai bisogno di mangiare non hai bisogno di respirare non hai bisogno di lavorare non hai bisogno di fare niente e infatti quando nasci e perdi tutti questi privilegi ti metti a strillare come un pazzo ecco quindi la condizione prenatale questa condizione prenatale o questa fusione religiosa Roland Roman l'aveva chiamata sentimento oceanico sentimento di fusione totale questa è la felicità Freud la riconosce dunque Roland la riconosceva nella condizione mistica Freud la riconosce nella dimensione prenatale e poi la riconosce nella funzione dell'innamoramento nell'innamoramento si ha una sorta di fusione dove la parte intellettuale la parte razionale è messa da parte e funziona solo l'emozione affettiva messa da parte al punto tale che uno può anche sbagliare il suo partner e se i suoi amici gli dicono guarda quella ragazza non va bene per te si sente dire si lo so ma non posso farci niente il cervello è già fuori gioco perché c'è una fusione totale questa è la felicità infatti quando si è innamorati si è felice però non dura però non dura bene nel mondo contemporaneo dove la possiamo reperire la felicità bene le nostre società sono regolate da due da due grandi scenari il primo scenario è costituito dal mercato e il mercato si è autonomizzato dalla società e oggi è la società che deve adeguarsi al mercato perché una volta che il denaro è diventato il generatore simbolico di tutti i valori è chiaro che il mercato ha un primato rispetto alla società dicevamo ieri che la stessa politica la stessa politica non è più il luogo della decisione come aveva previsto Platone ma per decidere in guarda l'economia cioè il mercato e il mercato che cosa fa? Eric Fromm che era uno psicanalista abbastanza popolare non ha detto cose interessantissime ma qualcuna sì per esempio in essere e avere racconta che in una società come la nostra a sfondo mercantile la felicità non è essere felici ma avere cose che ci rendono felici che è insomma un po' diverso tra essere felici e avere cose che ci rendono felici e quali sono queste cose? sono aggeci per vivere aggeci per vivere c'è una pagina di Rilke che non vi vorrei annoiare però la voglio leggere lo stesso Anna Maria Rilke nel 1919 scrive guardate che belle cose per i nostri avi per i nostri avi una casa una fontana una torre loro familiare un abito posseduto erano ancora qualcosa di infinitamente di più che per noi cosa fate voi con gli abiti posseduti e il sistema della moda? erano qualcosa di più era qualcosa di infinitamente più intimo quasi ogni cosa era un recipiente in cui rintracciavano e conservavano l'umano ora ci incalzano dall'America cose nuove e indifferenti pseudo cose aggeci per vivere una casa nel senso americano una mela americana o una vite americana non hanno nulla in comune con la casa il frutto il grappolo in cui erano riposte le speranze e la ponderazione dei nostri padri 1919 non oggi 1919 perché i poeti sono profetti vedono in avanti hanno l'epopteia come dicevano i greci la visione superiore ecco noi oggi viviamo di queste aggeci perché il mercato non ci prevede come persone e anche se alla pubblicità di una catena di mercati ci dice persone oltre le cose le persone non esistono nel mercato perché il mercato ci prevede solo come consumatori come produttori perché se non si consuma non si produce se non si produce diventiamo tutti più poveri abbiamo la disoccupazione abbiamo i pericoli sociali consumatori e produttori come persone non ci individua più nessuno nel mercato non solo ma perché il ciclo continui produzione e consumo dobbiamo consumare in maniera forzata quanti inviti avete avuto ad aumentare i consumi quanti inviti avete avuto cosa vuol dire consumare portare al nulla tutte le cose nel tempo più rapido possibile perché se no si interrompe la produzione il nichilismo è lì che si tocca con mano il nichilismo portare al nulla tutte le cose nel tempo più rapido possibile e quei telefonini che avete in tasca hanno in sé il principio dell'autodistruzione in modo tale che dopo lo dovete cambiare i computer hanno in sé il principio quello che per i medici i medici conoscono con l'espressione apoptosi per cui le cellule in sovra più si suicidano perché altrimenti se si sommerebbero arriverebbe il cancro bene questo così è diventato anche la nostra oggettistica portare al nulla nel tempo più rapido possibile tutte le cose se voi avesse avuto la mia età io da piccolo ricordo che non c'erano rifiuti non capisco perché ma non c'erano rifiuti oggi siamo sommersi dai rifiuti e c'è Gunther Anders un allievo di Heidegger che dice che l'umanità che tratta il mondo come un mondo da buttare via finirà per trattare se stessa come un'umanità da buttare via e ci siamo già arrivati chi sono gli alleati del mercato? gli alleati sono la moda e la pubblicità la moda ti fa diventare vecchio il vestito che hai comprato l'anno prima non è più di moda altro che l'abito posseduto di Rilke non è più di moda non può più mettere e quindi basta finisce nel nulla poi la pubblicità siccome di cose noi siamo iperriampiti allora la pubblicità non produce cose produce bisogni le pubblicità che vi fanno vedere non sono delle pubblicità qualsiasi prima si induce il bisogno della cosa poi te la fanno vedere e tu ne hai bisogno perché ti hanno prodotto il bisogno e qui c'è un bellissimo libro di Friedrich Bikebader che è stato il più grande pubblicitario del novecento che a un certo punto ha cominciato a riflettere sulla sua attività e ha concluso scrivendo un libro che si trova ancora in giro intitolato 39,4 euro un titolo così con due cifre edito da Feltrinelli in cui dice sì ebbene io sono un pubblicitario io sono stato quello che ha inquinato l'universo io sono quello che vi vende tutta questa merda dice così belle ragazze in photoshop allegate alle macchine che io vi voglio vendere e quando voi dopo tanti sforzi avete impiegato tutti i vostri risparmi per comprare la macchina dei vostri sogni io ne avrò già prodotte altre due che fanno apparire la vostra macchina già vecchia della vostra felicità non mi importa proprio niente dice Bikebader perché chi è felice non consuma cominciamo a pensare questa cosa chi è felice non consuma l'ultima considerazione la facciamo sull'altra sull'altro grande sistema che regge la nostra cultura oltre al mercato che non ci consente di essere felici perché non ci individua come persone altro che cercare il nostro daimon è la tecnica la tecnica caratterizzata dalla più alta forma di razionalità mai raggiunta dall'uomo che consiste in una formula molto semplice raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi questa razionalità è anche del mercato ma non è perfetta come quella della tecnica perché il mercato ha ancora una passione umana che è la passione per il denaro da cui la tecnica è del tutto esonerata quindi la sua razionalità è perfetta la tecnica non promuove scopi non ha scopi la tecnica se non il suo autopotenziamento non produce sensi non produce un senso non apre scenari di salvezza non redime non dice la verità la tecnica funziona e il suo funzionamento è diventato planetario nel 1968 Martin Heidegger è stato intervistato da Der Spiegel e l'intervistatore che era il direttore di Der Spiegel ha chiesto cosa pensava del suo tempo siamo nel 1968 e Heidegger ha risposto tutto funziona inquietante è che tutto funziona e il funzionamento diventerà la definizione dell'uomo che sarà recepito solo se funziona non so se lei dice sempre Heidegger l'intervistatore è rimasto colpito da quando gli uomini sono arrivati sulla luna io sono stato molto turbato dice Heidegger perché è stata per me la metafora dello sradicamento dell'uomo dalla terra non è necessaria la bomba atomica dice sempre Heidegger sarà la tecnica sradicare definitivamente l'uomo dalla terra adesso non sto a fare il mio discorso sulla tecnica perché se no non mi mando più a casa e poi mi odiereste ma teniamo presente questi scenari perché addirittura poi l'ultima la punta più avanzata del mondo tecnologico che si chiama informatica guardate che i telefonini e i computer sono i vostri nemici esistenziali che si chiama informatica il distanziamento sociale il mic l'ha creato il covid quello sarà stato un distanziamento virale ma il distanziamento sociale l'ha creato l'informatica noi parliamo con i telefonini noi parliamo con gli computer noi parliamo con queste cose con queste cose parliamo altro che didattica a distanza attenzione attraverso questo processo informatico che secondo me è la forma più avanzata della tecnica si creano quelle cose che si chiamano algoritmi cioè si riesce a capire di ciascuno di noi quali sono le nostre preferenze quali sono i nostri acquisti quali sono le nostre tendenze quali sono i nostri bisogni quali sono il nostro modo di concepire il mondo riescono a capire queste cose raccolgono tutti i dati possibili nei big data poi gli algoritmi li sistemano e creano un profilo di noi un profilo e cos'è quel profilo lì? siamo noi? no è come serviamo noi come possiamo essere utilizzati noi e allora il modello della nostra cultura diventa cosa serve? e questo modello è già diventato il modello degli studenti che al liceo si chiedono ma cosa serve al greco cosa serve al latino cosa serve alla filosofia cosa serve? già Aristotele aveva risposto la filosofia non serve a niente perché non è una serva ma cioè il momento culturale il momento formativo non conta più niente perché non serve a niente nel mese di giugno il ministro inglese della cultura ha invitato gli studenti a non iscriversi alle facoltà umanistiche perché non servono a niente ecco cos'è il risultato dei profili dove veniamo individuati sulla base di come serviamo e a questo punto dove la troviamo la felicità se non siamo neanche più persone non lo siamo per il mercato tantomeno per la tecnica e quel modello aristotelico realizza il tuo Daimon secondo misura è possibile oggi? no non è possibile non è possibile in questo contesto veramente qui c'è la tragedia che non vogliamo vedere forse più radicale della tragedia greca ma non la vogliamo vedere quindi non diventa forma della nostra cultura queste qui chiudiamo con il rapporto uomo e macchina è già da tempo che la guida è passata alla macchina sempre Gunther Anders che era un allievo di Heidegger quando è andato in America essendo ebreo e quindi con tutte le conseguenze che in epoca nazista potevano subire gli ebrei è andato in America si è messa a lavorare alla Ford e ha scritto al suo maestro Martin Heidegger maestro lei mi ha insegnato che l'uomo è il pastore dell'essere io qui alla Ford sono il pastore delle macchine il mio compito è quello di fare una ginnastica oculare dove davanti a me c'è una luce bianca luce rossa luce blu luce bianca luce rossa luce blu come si interrompe questa successione io devo fare una ginnastica con un braccio e tirare una leva che interrompe il sistema e quando il sistema si assesta io abbassare la leva io sono il pastore delle macchine e quando esco e vedo tutti disoccupati ai cancelli dalla Ford che sarebbero felici di fare questa ginnastica finalizzata mi vergogno di quello che ho pensato ma in ogni caso le dico che l'aeroporto uomo-macchina la guida è già passata la macchina questo lo diceva nel 1951 abbiamo fatto progresso da allora io qui finirei dicendo che per effetto di queste situazioni noi stiamo costruendo una sorta di società molto conformista molto omologata perché siamo visualizzati dal mercato come produttori consumatori e noi ci adeguiamo per forza perché il sistema ci obbliga dalla tecnica siamo visualizzati come profili e ci teniamo a questi profili perché inevitabilmente sono quelli che ci consentono di accedere a un lavoro piuttosto che a un altro ma già sempre Heidegger diceva nel 1927 in essere e tempo che noi non abbiamo più una individualità ma ci comportiamo come ci si comporta mangiamo beviamo stiamo a tavola come si sta a tavola leggiamo di arte di letteratura come si legge di arte di letteratura noi viviamo sotto la dittatura del sì del sì impersonale e l'omologazione può essere messa in questione solamente dalla cultura ma la cultura la cultura in Italia è un disastro un disastro ricordo una statistica che aveva fatto Tullio De Mauro nel 1976 in cui uno studente ginnasiale possedeva 1600 parole ripetuta vent'anni dopo la statistica ha stabilito che un ginnasiale ne conosceva solo 600 oggi secondo me ne conoscono dai 2 ai 300 parole e non dovete pensare che le parole siano uno strumento per esprimere i pensieri assolutamente no noi possiamo pensare limitatamente alle parole che abbiamo nel nostro repertorio linguistico provate a pensare una cosa di cui non avete la parola e questa carenza linguistica è il disastro completo e compiuto della nostra scuola senza cultura siamo omologati e nella così parla Zaratustra Nietzsche dice parla degli ultimi uomini profeticamente gli ultimi uomini gli ultimi uomini sono quelli ormai uniformati a quello che vuole il sistema e dice di loro noi abbiamo inventato la felicità dicono gli ultimi uomini e strizzano l'occhio una vogliuzza per il giorno una vogliuzza per la notte fermo restando alla salute noi abbiamo inventato la felicità e strizzano l'occhio l'umanità un solo greggio e un solo pastore chi la pensa diversamente dice Nietzsche va spontaneamente in manicomio grazie buona serata grazie grazie bello grazie adesso ci sono gli amici della cooperativa tra un minuto il professore si reca vicino al banco dove vendono i libri per il firma copia solo un minuto passo la parola alla cooperativa grazie professora grazie punto noi vogliamo ringraziarla donandole delle cose della nostra terra uno che è uno dei nostri orgogli della vinicola Palamà il vino il metiusco è un rosso è un rosso e l'altro è una cosa un po' più semplice però per noi ha un grande valore è una boccetta di terracotta noi siamo città della ceramica con dentro l'olio di casa Polimeno che è forse la cosa più preziosa e le scritte sono di una nostra amica calligrafa Daimo appunto sì Marta Lagna grazie professore lo stesso dono facciamo a Luca